chiedo di venire sul palco a mario maiocchi direttore del centro studi di conf imprese bene buonasera a tutti siamo siamo in chiusura un po di numeri ma sarò leggero e staremo la sostanza e non tanto i numeri allora io sono qui rappresentanza di conf imprese che è un'associazione che opera nel retail si occupa dello sviluppo delle reti e si occupa delle reti dirette delle reti franchising e siamo presenti in italia con 350 insegne 40.000 punti vendita in italia nel mondo e 660 mila addetti qua l'associazione di fatto le nostre attività sono plurime facciamo intanto networking che ovviamente mettere insieme gli operatori perché possano condividere fare progetti scambiarsi esperienze abbiamo il centro studi di cui sono responsabile facciamo azione di lobbying con le istituzioni per portare avanti le istanze le esigenze e le criticità del retail retail di reti strutturate ovviamente siamo presenti sui media e ovviamente c'è molta attività sullo sviluppo delle reti sia in italia che all'estero allora ci possiamo domandare la animazione non ha funzionato comunque il titolo era dove apparire solo questo quanto è stata grave la crisi o quanto si si pensava fosse grave la crisi questo è un grafico del standard in pur 500 nel 2020 bene in un mese nel mese di marzo lo standard in pura ha perso ha perso il 35 per cento per trovare delle perdite altrettanto gravi bisogna tornare indietro nel 2008 l'iman bravers e nel 29 il crash di wall street e in quei due anni ci ha messo un mese e mezzo due per raggiungere su per giù lo stesso livello di perde quindi l'inizio è stato un inizio da infarto perché i mercati finanziari che sapete che anticipano quello che succederà in un mese hanno previsto una crisi di dimensioni epocali tanto è vero che il world bank aveva detto che si attendeva che la crisi covid sarebbe stata la quarta crisi più importante degli ultimi 150 anni superata solo dalle due guerre e dal crash di wall street bene questo era l'inizio a marzo 2020 eravamo qua cosa è successo beh quanto è stata grave la crisi vediamo alcuni dati questi sono dati dell'osservatorio conf imprese che un osservatorio a cui partecipa nei nostri associati raccogliamo i dati di 4500 negozi e sviluppiamo dei trend mese su mese anno su anno sia per settore merceologico abbigliamento ristorazione e altro non food sia per geografia allora qui vediamo che sulla sinistra vedete l'andamento rispetto al 2019 che ovviamente quello significativo un anno normale beh le differenze sul 2019 a luglio luglio 21 verso luglio 2019 year to date quindi progressivo erano molto molto pesanti meno 40 per cento di questi tre settori poi cercheremo di capire come mai così alto bisogna vedere quali settori sono con quali canali operano e via dicendo però da notare che in luglio c'è stata una cambio di velocità a luglio la differenza sul 2019 meno 22 quindi è sempre pesantissimo ma il trend si sta invertendo rispetto al 2020 siamo leggermente sopra di un 3 per cento anche qui un'accelerazione in luglio quindi per questi settori in questo contesto per il momento la crisi è veramente grave però cosa dicono i mercati finanziari noi ci siamo fermati a marzo 2020 la realtà che per settembre in cinque mesi wall street avrebbe recuperato il 60 per cento chiudendo livelli più alti del pre covid allora c'è qualcosa che che non torna le aziende sono andate così i mercati prima hanno reagito e poi prima hanno reagito in peggio e poi sono sono esplosi a settembre di quest'anno il livello da standard pure il 40 per cento più alto del punto più alto pre covid quindi le aspettative dei mercati finanziari è che l'economia sarà molto migliore di com'era a gennaio a febbraio 2020 questo perché perché il covid è una crisi grave e l'abbiamo visto l'abbiamo visto nei numeri però le manovre delle banche centrali con un'emissione di liquidità senza precedenti e la volontà di continuare a metterla se necessario ha ovviamente creato delle aspettative per le imprese di grande sviluppo che già si sta avverando in molti settori adesso bisogna capire in quali settori e come cavalcare perché i mercati ci credono e loro anticipano i soldi ci sono bisogna capire su quali cavalli puntare e quindi vediamo un attimo di analisi poche sono dei grafici sempre dell'osservatorio conf imprese sono tre grafici quindi non vi chiederò più di tanto non commenterò i numeri anche perché hanno dei dei trend molto simili un grafico e per aria geografica un grafico e per settore merceologico e l'ultimo grafico e per canale distributivo in tutte e tre le analisi vedremo che i gap rispetto al 2019 sono molto importanti abbiamo visto quel 40 per cento su per giù miglioramento in luglio e i gap nel 2000 verso il 2020 sono positivi in genere e luglio è in netta ripresa quindi questi sono trend comuni e tre grafici non starò più a commentarli quello che cercheremo di capire è che quando si va in dettaglio ad analizzare un meno 40 non è un meno 40 piatto perché il sud ad esempio perde 10 punti meno del nord est quindi il sud è stato meno colpito dalla pandemia però ad esempio vediamo che il nord est in luglio è quello che reagisce meglio quindi mese per mese bisogna cercare di capire i trend e cercare di cavalcarli interessante quello per settore merceologico perché qui si vede la ristorazione è il settore che ha sofferto di più ma anche il settore che in luglio ha reagito meglio l'abbigliamento ha sofferto molto e invece nell'altro non food che avete un negativo a meno 13 ma in quell'altro non food si va dall'elettronica di consumo all'entertainment a casa arredo al giocattolo oggi c'è un articolo sul 24 ore che il giocattolo ha raggiunto i livelli del 2019 ma i tre settori che ho menzionato hanno dei positivi e hanno dei positivi ogni tanto anche a due digit quindi nelle medie si perdono i ragionamenti bisogna scendere nel dettaglio per capire come vanno le cose ultimo ma non ultimo l'analisi per canale questo l'hanno già detto i colleghi che sono venuti prima di me le malls ovvero i centri commerciali hanno sofferto di più ma il canale travel mi spiace che franco si è andato via perché lui un grande operatore nel canale travel ha avuto ovviamente purtroppo il canale travel sono gli aeroporti le stazioni e le autostrade sostanzialmente il canale travel ovviamente è stato drammatico come aveva meno 70 anche alla fine beh siamo a meno 64 e anche il rimbalzo adesso non è ancora così forte viceversa vediamo che ad esempio le mall hanno stanno rimbalzando abbastanza bene tutto questo è sintetizzato nella prossima chart per dire che ci sono cavalli che zoppicano di cui bisogna occuparsi che bisogna curare ma cavalli che corrono e cavalli che corrono molto forte gli investitori hanno visto i cavalli che possono che correranno molto forte e così devono fare i retailer se vogliono essere vincenti perché ci sono rischi ma ci sono anche opportunità per intenderci nell'altro non food che era la media ci sono settori che corrono al 27 28 per cento più della ristorazione dell'abbigliamento quindi quando franco parlava di ibridazione bisogna avere la mente aperta anche a ibridare per salire sui cavalli che corrono se l'entertainment l'edutainment l'elettronica la casa arredo corrono e correranno per un po perché fenomeni come lo smart working sono sono qui per restare bisogna serci sopra si parlava della prossimità se la prossimità è qui per restare bisogna pensare di sviluppare le reti anche in prossimità e via dicendo le aree secondarie che sono le periferie più le città di provincia hanno perso 12 punti in meno dei centri commerciali e ci sono buone prospettive il travel ha perso invece 25 punti rispetto al totale e poi fenomeni che non sono i numeri che avete visto sono solo la rete fisica non sono il totale quindi non hanno l'online incluso è ovviamente l'online scusate è banale dirlo ha corso 80 punti più delle reti fisiche ma quando diciamo online non bisogna pensare che sia la fine dei negozi perché l'online non è più solo la spedizione a casa con l'ordine a casa come online comprendiamo tutto l'omnichannel e quindi il negozio è parte integrante dell'omnichannel molte aziende sono indietro ma per fare funzionare l'omnichannel il negozio è fondamentale e poi vedrete una testimonianza di qualcuno che se ne intende di online e infine fenomeni che non sono legati alla digitalizzazione non necessariamente voglio dire si possono anche fare per telefono gli ordini ma il delivery del takeaway nella ristorazione si sono sviluppati l'ottanta per cento più veloce della ristorazione in loco anche perché erano chiuse quindi le opportunità ci sono i mercati le riconoscono i soldi ci sono bisogna identificarle lavorarci sto quasi concludendo ci sono quattro chart per concludere quindi quali sono i driver principali di questa disruption creata dalla dal kovid sono quattro ce ne sono altre ovviamente ma questi sono probabilmente quelli più importanti la trasformazione digitale che ha avuto un'accelerazione quantistica e che qui per restare ovviamente non per arretrare lo smart working che è una nuova realtà e anche questa forse si ridimensionerà speriamo un po se ridimensioni ma resterà e cambierà dei modelli di vita dei modelli di spostamento dei modelli di shopping i viaggi di business sono probabilmente cambiati anche questi in maniera strutturale permanente perché saranno meno saranno diversi saranno fatti in maniera completamente diversa e poi invece un fattore che speriamo se solo temporaneo per tutti noi anche per il business che il turismo soprattutto quello intercontinentale per il momento sopra moltissimo questo speriamo che non sia ovviamente permanente c'è un fattore trasversale a tutto questo che è il velio è vero che c'è più liquidità immessa dalle banche centrali ma ci sono molte classi di famiglia di consumatori che o hanno avuto il reddito significativamente significativamente diminuito o comunque hanno il timore che possa essere diminuito e quindi sono molto più attenti al prezzo hanno meno soldi da spendere e quindi il fattore pricing avrà un una rilevanza importante nelle strategie di retail e questo per qualche anno sicuramente c'è allora qual è l'impatto sulle strategie di real estate perché poi siamo qui per questo quindi qual è l'impatto sulle strategie real estate di tutto questo vabbè intanto l'equilibrio l'equilibrio fra ok intanto pronto sì intanto l'equilibrio l'equilibrio fra categorie non è che ci sarà categorie che spariscono e altre che esplodono però l'equilibrio cambia quindi mix merceologico all'interno dei centri commerciali all'interno degli stessi negozi cambierà questo in termini real estate vuol dire rifare il layout rifare l'esposizione e via dicendo allargare il negozio rimpicciolirlo i canali parlavamo e quindi canali location quindi delle prossimità delle province dei centri commerciali piuttosto che della street i formati i formati visti anche in un'ottica di omnicanalità dovranno cambiare quindi ci sarà sicuramente un forte lavoro di remodeling ristrutturazione nei negozi perché nei negozi lo vediamo adesso c'è interesse ma forse negozi diversi che negozi che devono evolvere e saranno negozi molto più digitali adesso vi mostro due cose che saprete sicuramente ma che mostrano come il negozio per il consumatore resta al centro dei desideri e dell'attenzione delle necessità e c'è chi ci crede e sono dei signori che i negozi sono partiti per eliminarli però la più grande acquisizione fatta dalla fondazione dal 1994 di amazon è l'acquisizione di wall food per 14 miliardi di euro allora non penso che amazon abbia investito 14 miliardi di euro anche se sono peanuts per loro per il piacere di farlo e perché ha capito a cominciare dal dal food dal retail food che il negozio è e rimarrà un punto centrale per il consumatore insieme a tutto quello che invece comporta la digitalizzazione ed è notizia di tre settimane fa è più un rumor ancora che una notizia confermata che amazon intende anche aprire dei department store di non food in maniera anche abbastanza di dimensioni importanti comincerà in america e in italia cosa succede noi come centro studi confimpresa abbiamo fatto facciamo delle sarvi regolarmente con nostri associati a inizio anno abbiamo fatto una sarvi chiedendo quali previsioni di aperture e di chiusura avessero per il 2021 che di cui adesso vi mostro i dati a questa sarvi hanno partecipato 70 insegne e queste 70 insegne hanno dichiarato che hanno hanno previsto e hanno un budget finanziario per aprire nel 2021 circa 1300 negozi di cui due terzi in italia e un terzo all'estero e però anche di chiudere 500 in italia sull'estero non abbiamo raccolto il dato questo cosa vuol dire intanto che i retailer credono nella centralità dei negozi continuano a investire vuol dire una crescita della rete dell'8 per cento media continuano a investire cambiano escono dalle location che non vanno o che non sono adatte come struttura per entrare in location migliori e quindi questo è un segnale molto positivo per informazione stiamo chiudendo in questo weekend la sarvi la stessa sarvi fatta ad oggi che chiede quanti ne hanno realizzati e quanto gliene manca da realizzare entro fine anno io francamente a priori pensavo che il risultato fosse che fossero un po indietro nella realizzazione di queste aperture perché magari si era più ottimisti sull'andamento della pandemia e poi una cosa tira l'altra e magari erano in ritardo e stavano slittando l'anno prossimo bene le previsioni aggiornate ad oggi ve lo anticipo sono superiori e l'abbiamo fatto solo per l'italia quegli 882 sono diventati 920 adesso non mi ricordo esattamente cioè l'actual è ormai il forecas per gli ultimi mesi che è sicuro perché insomma entro dicembre si sa cosa si apre hanno confermato queste previsioni quindi questa è una nota positiva e da questa sarvi purtroppo se sapevo di particolare questo convegno avrei messo dentro la domanda ci sono mancano i remodeling perché come abbiamo detto molte aziende dovranno rivedere ed evolvere il formato e questo non è fra le aperture ma è in lavoro e di negozio di remodeling bene io vi ringrazio l'attenzione so che dopo una giornata lunga non è facile spero di averla tenuta mediamente grazie mario siamo siamo lunghissimi e chiedo scusa accomodati pure mi chiedo scusa ai prossimi relatori che sono gli ultimi e quindi si dovranno un po ridurre i tempi e tra virgolette cercare di rianimare un po la sala quindi chiedo a franco scaramuzza di coin claudio pironi di claudio pironi in partners giovanni feltrin di mig lorenzo cotti di integra e matteo bressanin di lux ottica di venire sul palco io ho fatto due format come avete notato poi abbiamo un digitale qua vedo franco che si collega avevamo fatto queste due tavole questi due forma diversi per parlare prima con i brand e vamo matteo ma ha ricevuto una telefonata e mi ha chiesto di poter spostare e avere sostanzialmente i progettisti dopo quindi prima le aziende e dopo i progettisti adesso qui abbiamo un mix e quindi diventa ancora più interessante andare in maniera molto fluido le domande concordate le accantoniamo e chiedo un po così visto che ci hanno provocato sia le due relazioni di massimo e di mario credo molto interessanti perché ci danno comunque una prospettiva che il nostro mestiere non è finito che comunque stanno prendo altre situazioni quindi parlerò si partirò sicuramente con matteo che in questo momento con l'azienda che rappresenta state facendo incetta di tecnici avete migliaia di aperture quindi se ci dai un tuo punto di vista di quella che è l'esperienza che è stato vivendo perché durante il covi di vostri negozi non hanno chiuso se non mi ricordo male e se i vostri programmi hanno avuto e subito a dei rallentamenti durante il covi e come ne state uscendo per queste operazioni che state facendo e se ci racconti anche un po i numeri dei delle strutture negozi perché credo che sia interessante si sente sì intanto grazie giaccarlo noi in realtà non siamo mai fermati nel senso che ad aprile del 2020 quando eravamo nel pieno della prima crisi abbiamo cercato di cambiare tutto per non cambiare nulla un approccio quindi più legato a rimpensare i nostri formati di concept proprio per legarci a quello che diceva prima mario il tentativo di essere una value proposition si parlava di valore noi l'abbiamo messa non tanto sul prezzo ma su quello che è il valore che volevamo offrire al consumatore siamo resi conto da un lato che il consumatore ovviamente era destabilizzato l'incertezza sociale economica era importante il modello di vita stava stava iniziando a cambiare da un punto di vista di quella che era la prospettiva il modo di interpretare il quotidiano allo stesso tempo forse anche le priorità nell'acquisto e quindi quello che noi come azienda come come azienda che poi diciamo propone sia l'ambito del fashion ma anche l'ambito dell'ottica cercavamo di dare una nuova prospettiva che fosse rilevante per il consumatore da lì analizzando questo consumatore siamo resi conto che c'era una forte polarizzazione da un lato un consumatore non era più interessato al concetto di lusso ma forse più un concetto di essenzialità del prodotto che acquistava e quindi la perdita di appealing dei brand e dall'altro invece un consumatore che dedicava molto più tempo al web browsing e che veniva in negozio in tempi rapidissimi sapeva già cosa voleva comprare e scappava via con il prodotto quindi questa polarizzazione del consumatore ci ha portato uno appunto cambiare tutto per non cambiare nulla abbiamo preso ogni singolo segmento dei nostri concept che spazia dagli store concept puramente optici a quelli puramente i fashion con il sun alle house brand stile raivan oakley oliver people e abbiamo completamente rinnovato la customer experience dall'altro poi abbiamo ovviamente evito di ripetere quello che è stato detto ampiamente abbiamo fatto un boost incredibile sulla monicanalità spingendo tutti quei servizi che erano già presenti ma allo stesso tempo non così preminenti cercando di mixare il digitale con il virtuale creando quella univocità di relazione col consumatore quindi nell'arco di un anno abbiamo rinnovato quasi tutti i concept man mano vedrete sui vari mercati nord americano principalmente ma anche in italia in italia non siamo mai fermati anche con i cantieri durante le pandemie proprio perché avevamo una licenza dedicata al mondo dell'ottica e quindi potevamo continuare a operare abbiamo mandato avanti i cantieri con grande attenzione ma anche con grande difficoltà e abbiamo continuato ad aprire rimodellare ripensare i nostri format quindi assolutamente è stato un'opportunità per noi come team di rinnovarci con il pensiero e allo stesso tempo credo che il rifar tutto cambiare tutto per per poi rimanere sempre on top of the mind del consumatore ci abbia messo in una condizione di successo tant'è che poi i numeri che abbiamo portato ci dai qualche numero di quante persone ha in staff e di quanti negozi gestite perché è un numero che mi ha fatto mi ha impressionato l'altro giorno allora posso farti i numeri del 2019 noi pre covid abbiamo portato a casa da un punto di vista di numerica più di 700 punti vendita tra new remodel e location ma ti parlo a livello globale quindi coinvolgendo anche tutto la sfera nord america australia china quest'anno con il 20 21 siamo tornati quei numeri stiamo portando a casa un workload importantissimo il nostro team è un team poi legato molto alla centralità di milano abbiamo controllo verticale che vada dalla progettazione del design concettuale fino all'implementazione ovvio che poi abbiamo degli ab operativi nei vari mercati nord america importantissimo new york latino america australia e cina dove cerchiamo di essere locali e quindi abbiamo dei team locali che riescono a gestire in tutto siamo circa 150 tra architetti ingegneri planner procurement driven manager e poi ovviamente ci appoggiamo a flessibilità quindi lavoriamo con tanti dei professionisti che anche oggi sono qui presenti proprio per cercare di superiore tanti punti vendita seta ogni giorno c'è una statistica che cresce siamo circa vicino a 11 mila punti vendita i banner sono tantissimi quindi considera che portando a casa 6 700 negozi di new remodel e location intacchiamo ogni anno circa il 7 l'8 per cento del nostro network numeri importanti quindi abbiamo prospettiva di lavoro un po tutti qua dentro perché poi quello che ci chiediamo tutti e questo sostanzialmente grazie matteo intanto credo che giovanni invece ci dia uno spaccato un po diverso perché tu sei un po abitato a lavorare diciamo nei centri commerciali diciamo quindi i tuoi clienti si sono fermati tutti oppure ha continuato a chiedere innanzitutto noi lavoriamo esattamente nei centri commerciali nella grande distribuzione nelle gallerie commerciali quindi intese come la scatola e quindi il sistema centro commerciale prevalentemente non nei negozi con l'arrivo del del covid abbiamo avuto uno stop totale in quanto il centro commerciale ha subito una battuta d'arresto e come tale anche tutte quelle consulenze come la nostra che evidentemente non avevano più necessità in quel momento di di proseguire quello è comprensibile salvo tutte quelle attività che avevamo in corso ad oggi io posso dire che grazie a dio stiamo vivendo una situazione incredibilmente vivace questa vivacità l'abbiamo vista partire da maggio noi come come studio e dal mio punto di vista il covid ha come dire fatto aprire gli occhi ho dato una spinta ad una situazione che gravava sui centri commerciali o su tanti centri commerciali italiani visto che le grandi strutture le principali strutture sono state costruite nel decennio diciamo a cavallo del 2000 fino all'arrivo della della crisi del 2009 per cui sono centri che tra 15 20 anni ok di di esistenza comunque necessitavano di una rivisitazione rivisitazione che nel pre covid era oggettivamente tiepida oggi c'è un'esigenza da parte delle proprietà vediamo e da parte dei gestori di riposizionare queste strutture quello che ci viene chiesto in questi giorni è restyling ridimensionamento delle grandi msu e quindi con la riduzione di superfici commerciali a beneficio anche di altre merceologie o non necessariamente merceologie o quindi la trasformazione in aree di intrattenimento all'interno delle delle gallerie la revisione delle delle aree di ristorazione quindi la determinazione attraverso la modifica anche dei layout di quelle che possono essere soluzioni anche invasive ma che permettano di aumentare la l'offerta di ristorazione e poi la rivisitazione di quelli che sono gli spazi è un po quello che vedevamo prima con la creazione di spazi confortevoli con la percezione di dare la tranquillità al cliente di ritrovare nel centro commerciale un luogo sicuro è un luogo dove poter passare qualche ora in in tranquillità e in serenità diciamo che questo è un po quello che che sta accadendo lo vedo anche con grande ottimismo per per il futuro perché anche un nostro comune amico nonché cliente mi conferma che il trend è prevalentemente questo insomma soprattutto anche a partire da settembre c'è stato un ulteriore un ulteriore un ulteriore un ulteriore spinta grazie claudio ti ha citato prima ennio ha detto rispondere a lui sulle domande sostenibilità materiali come cambia la progettazione eccetera delegato te a questo punto ti ha già fatto anche la domanda prossima ne lo invitiamo lui a fare il moderatore perché lo vedo presente molto polemico però anche a persona però è quello che serve anche per uscire dalla quotidianità delle abitudini che vada bene anche questo sì allora io come ennio non sono un fanatico della sostenibilità perché credo che dietro ci sia una grande operazione di marketing e quindi la sostenibilità fatta di negozi in cartone o fibra di bambù è una sostenibilità direi finta anche perché il mio studio viene chiamato a dare delle risposte a determina un determinato tipo di cliente che ancora in questa fase non è particolarmente sensibile alla questione della sostenibilità io credo che comunque si possa fare sostenibilità di altissimo livello costruendo bene nel senso che un negozio anche se sostenibile costruito male crea tutta una serie di scorie che sono dal problema di un impianto di illuminazione ad esempio che funziona male che dà dei problemi alle operazioni di vendita ma crea anche la problematica che quando si fulmina una lampadina mi deve arrivare l'elettricista con il furgoncino che deve cambiare la lampadina che deve creare tutta una serie di cose che quando invece il negozio sia l'impianto di illuminazione che i mobili o l'arredamento i pavimenti vengono costruiti bene non si pone nel senso che si abbassa sensibilmente il costo di manutenzione e questo rappresenta una sostenibilità non solo in termini di green ma anche una sostenibilità in termini di spesa da parte del brand perché se il diciamo che i brand sono molto attenti al costo di acquisto di uno spazio commerciale ma molte volte non tengono conto di quel quanto è il costo finale alla fine di un ciclo di vita di un negozio vale a dire è un negozio quelli su cui lavoriamo noi diciamo un retail e high end a un ciclo di vita che varia da 6 7 8 anni in alcuni casi particolari può arrivare a 10 e quindi il costo totale è il costo di acquisto del negozio in termini di arredamento e impianti e il costo di manutenzione e di riadattamento di questo negozio nel nel corso del tempo bene franco invece nel tuo settore automotive sta pandemia cosa ha fatto avete cambiato il salone vi viene cambiato tutto non poteva più usare le macchine prima di tutto noi architetti siamo stati un po diciamo frustrati da questa devastazione di pannelli in pre plexigas sono stati messi da facility manager o dai o dei covi manager che ovviamente c'è un po scioccato dal punto di vista anche architettonico in genere quindi questo il primo impatto vabbè colonnine per la disinfezione per la misurazione delle temperature tutte cose un po improvvisate l'emergenza è margenza non è che si può neanche farne una colpa a chi li ha installati in qualche modo e in quel modo anche se mi è piaciuto sentire prima l'esperienza di questo divisorio creativo interessante che vuol dire che magari qualcosa di meglio si poteva anche fare l'impatto subito più grosso anche se il settore in realtà non ha mai chiuso nel senso che soprattutto per la parte service era un servizio essenziale perché possiamo immaginare le ambulanze le macchine della polizia chi comunque poteva muoversi doveva avere il diritto di avere un servizio l'impatto più grosso è stato soprattutto nei processi perché possiamo immaginare che soprattutto certi concept di esposizione prevedevano che il cliente potesse liberare muoversi abbastanza liberamente nel suo room prima di avere il primo primo touch point quindi immaginiamo una reception abbastanza retrata spazio in modo che potesse girare visitare aprire l'auto a salarci dentro questo non è più stato possibile cosa significa che l'auto deve essere sigillata disinfettata e ogni volta che viene aperta e si siede un cliente vuol dire che il cliente ha bisogno di un'assistenza più continua più diretta ma insomma poi sappiamo anche noi tutto il processo di vendita dell'automotive è un po particolare perché è a consegna di ferita a volte anche di mesi anni cioè quando si provano una poi in questo momento non vi dico beh forse voi avete avuto esperienza ma che il problema dei semiconduttori materie prime tutte queste cose sono dei ritardi nella produzione che sono e nella consegna che sono infiniti però voglio dire quando ci si trova che vanno a saltare a certi processi le strutture non sono nemmeno attrazzate per poter garantire non so delle o vanno riorganizzate delle aree di sosta un pochino più estese più aree di chiamiamole aree clienti ho detto aree di sosta ma non è una cavolata aree delle lounge un pochino più distanziate ma anche più estese perché i venditori sono quelli che sono non è che però anche aiuto nel se ci si se ci aiuti nel senso che i tuoi committenti sono anche molto particolari perché tratti marchi anche poi se vuoi raccontarlo importanti ti hanno chiesto di lavorare sul brand nel senso che ripensiamo il salone in funzione anche a tutti questi problemi ma anche ti hanno stimolato eccetera nel rivedere completamente questa pandemia c'è ha creato qualche cosa tema è stato questo ha creato che bloccato un processo nel senso che eravamo in una fase soprattutto con dei marchi noi lavoriamo prevalentemente con marchi e premium luxury o sport luxury quindi sono a fascia alta con clienti che hanno determinate esigenze che si aspettano a certo brand experience e quindi con dei con dei customer journey molto ben mirati molto ben studiati e attenti e eravamo in una fase in cui stavamo rivedendo un po completamente l'approccio del showroom perlomeno su certi concept su certi marchi nel senso che insomma basta questa reception che fa distanza dell'accoglienza basta questa scrivania di venditori o da una parte tu dall'altra staccato così se facciamo delle zone invece appunto molto più più easy un po più dove ci sia più conforto ci senta più a proprio agio e tutti allo stesso livello per i vari per i vari punti di contatto che non sia per la vendita che per l'accettazione del per il service e tutti questi aspetti e questo non è più stato non è più stato possibile portare avanti questo tipo di progetto o meglio mi auguro che sia solamente rimandato fatto in futuro ma in questo momento chiaramente la postazione di lavoro più convenzionale è di più facile adattabilità cioè mantiene di più le distanze quindi intrinsecamente è più vantaggiosa per la protezione del covid quindi da questo punto di vista noi stavamo già progettando e lavorando su nuovi concept un pochino più più interessanti secondo me di questa visione un po convenzionale dei punti di contatto cliente nel mondo dell'automotive in realtà insomma più che altro è stato proprio un blocco di un processo blocco una pausa mi auguro il processo che era in corso l'axe con cui tu lo vuoi insomma i vostri clienti eccetera hanno fermato gli investimenti si sono fermati o hanno continuato a ragionare? assolutamente no anche perché voglio dire sono investimenti che sono sempre programmati a lungo termine adesso voglio dire si parlava prima si è parlato oggi di City Life noi proprio a giugno abbiamo inaugurato uno showroom tipo chiamiamolo City Sales Outlet o qualcosa del genere come format un po' particolare proprio nel mall di City Life doveva essere aperto un pochino prima siamo dovuti fermare per la pandemia appena ci hanno fatto ripartire i cantiere siamo andati via velocissimo con un investimento anche importante in termini di multimedia e tecnologia pur essendo un negozio se vogliamo meglio scusa non è un negozio perché non si vende niente si fa solamente un'esperienza una brand experience e si raccolgono informazioni però insomma diciamo un investimento importante in termini di multimedia e altro ma si è andato avanti come si è andato avanti con tantissimi altri progetti che hanno comunque delle dinamiche delle tempistiche che vanno sempre sul medio periodo in ogni caso tu puoi immaginare comunque che anche adesso quando si parla di un nuovo modello d'auto e anche magari gli adeguamenti che devono essere fatti nelle strutture per un nuovo modello d'auto questo dalla progettazione e la consegna passano sette anni quindi non è che da quando il board dice ok andiamo avanti facciamo una macchina così dopo sette anni arriva il prodotto mentre con l'elettrico questo si accorcia un po' chi ha già la piattaforma ma insomma adesso entriamo su cose che riguardano meno retail e più prodotti era solo una curiosità di capire come il modo che sicuramente non comprano una Ferrari online non fanno l'omnicanalità poi dovremmo parlare del fenomeno Tesla ecco perché dopo appare Tesla che ha continuato a vendere vende diciamo relativamente tanto per il suo settore anzi il suo settore è assolutamente leader e non ha negozi mi spiace dirlo qua ma uno ce l'aveva proprio a Redox che è stata citata prima ma adesso ci sto mettendo dentro un altro marchio perché va via da lì e ho detto ma adesso dove è andato? ma tanto non ci interessa se noi le macchine vendiamo online non ci facciamo niente anche perché quelle auto lì non parliamo di Tesla andiamo avanti se no ci deprimiamo anche perché lì sai devi scegliere il colore, il cerchio, basta la macchina è così sì ti arriva appunto dopo cosa succederà quando c'è qualche problema riparazione non so insomma io vado ancora insomma sono un po' potete vedere insomma qualche annetto mi piace ancora il profumo della benzina cosa volete farci? parlando di sostenibilità non lo so forse non so però dai anche perché c'è uno che fai tu le macchine non è che consumino poco in genere quelle mie? no quelle dove no neanche le mie però Lorenzo non ti ho lasciato per ultimo poi riprendiamo un po' questo dibattito altro settore completo ancora marketing olfattivo è stato chiamato prima richiamato negli interventi i profumi eccetera poi in realtà però ti sei occupato di sanificazione dell'aria quindi mi dai questa cosa ti è successo cosa hai fatto e che tipo di esperienza hai vissuto in questo periodo? ti rispondo con due case history così sono cerco di essere sintetico sì noi ci occupiamo di profumi di realizzare dell'identità olfattiva di grandi marchi che sia lusso che sia fast fashion lavoriamo per intesa San Paolo per Emirates quindi non solo esclusivamente il mondo del fashion che conosciamo molto bene e che frequentiamo compresi i cantieri cosa è successo? è successo che ovviamente da quando è partita la pandemia già qualche mese prima avevamo iniziato a lavorare con l'università di chimica di Parma per cercare di capire se gli oli essenziali avessero realmente qualche speranza delle loro caratteristiche battericide poi ovviamente è arrivata la pandemia e non sono assolutamente sufficienti è successo che ci siamo trovati ovviamente ad avere circa 4.500 device che sono i nostri strumenti di diffusione del profumo attraverso un sistema di nebulizzazione con il diametro della dimensione del diametro del micron controllato collegati agli impianti di canalizzazione e quindi abbiamo deciso ovviamente di investire in ricerca e sviluppo e cercare di capire se se potevamo fare qualcosa per i nostri clienti per poterli aiutare anche fornendo un prodotto che potesse anche disinfettare quantomeno gli impianti di canalizzazione quindi l'interno delle pareti dei canali i filtri e anche ovviamente di conseguenza l'aria e secondariamente con un risultato un po' differente in termini temporali delle superfici non è il nostro core business ovviamente questo però ci siamo trovati prima di tutto con uno dei nostri più grandi clienti che è il gruppo LeveMesh e diversi marchi per i quali lavoriamo che hanno hanno iniziato un processo un programma molto affascinante devo dire per tutti i loro marchi che hanno ovviamente piena libertà di portare avanti i loro progetti di sviluppo di sostenibilità di real estate che ovviamente toccano tantissimi aspetti che nei vari convegni precedenti abbiamo visto noi ovviamente siamo stati coinvolti siamo tuttora coinvolti in quello che possiamo definire aggiungendo la parola comfort visto che facciamo profumi comfort quality well being of environment quindi attraverso i nostri device collegati agli impianti di canalizzazione tutti controllati in remoto loro hanno una piattaforma dalla quale tu in qualsiasi momento in tempo reale puoi verificare tutta una serie di letture attraverso i sensori di controllo di qualità dell'aria presenti nei punti vendita anche nascosti ovviamente in fase di under construction nascosti oppure semplicemente posizionate all'inizio delle riprese dell'aria e in questo caso tu puoi controllare dicevo in maniera dinamica con dei sensori attivi cosa che oggi molti impianti di canalizzazione moderni fanno e già negli ultimi anni almeno la CO2 ovviamente ce l'avevano però hai una lettura dei VOC hai una lettura delle PM con un warning sotto i 4 micron di diametro dove iniziano ovviamente a diventare dove iniziano dove sono pericolosi hai le formaldeidi tutto quello che praticamente ti può servire per avere un termometro della qualità dell'aria che ti crea un indice poi medio di qualità dell'aria che viene attenzione comparato con l'indice medio della qualità dell'aria outdoor cioè della centralina pubblica geolocalizzata più vicina come dire io nel mio negozio a Canton Road a Hong Kong fronte strada ho questo livello di qualità dell'aria con questi dati analitici di cruscotto di ogni singola voce compreso il radon oggi intesa San Paolo che noi profumiamo non è che ci occupiamo di questi aspetti ci dice ok d'accordo però riusciamo a verificare anche nel nostro basement il livello del gas radon quindi affascinante come soprattutto aziende di una certa elevatura iniziano veramente a premiare le loro branch il loro brand in funzione di quanto riescono ad essere performanti in termini di controllo e di miglioramento della qualità dell'aria e poi non basta l'informazione non mi basta sapere che l'indice medio di qualità dell'aria del mio negozio è migliore di quell'outdoor vicino a Canton Road devo fare una call to action altrimenti l'informazione è utile e fondamentale però devo poi sviluppare qualcosa per migliorare questa situazione la cosa affascinante è quella di riuscire che è la sfida di questi giorni e dell'immediato futuro e che ci chiedono non è tanto e solo quello di creare una call to action sui nuovi progetti è facile ma sfido chi deve ovviamente attribuire e mettersi a fare refitting di tutto il parco installato a lavorare sul parco installato di tutti i punti vendita da un punto di vista di salubrità dell'aria e di miglioramento di conseguenza degli impianti quindi la vera sfida potrebbe essere davvero quella di riuscire a implementare un sistema nei vecchi impianti nelle vecchie HVAC machine che mi permetta in funzione della lettura della CO2 della VOC di aumentare che so la percentuale di emissione di aria primaria dall'esterno di aumentare la ventilazione cioè di fare quello che una macchina moderna oggi fa con un semplice sensore di CO2 ma sul parco installato io non lo posso fare o comunque degli enormi limiti chiedo su questo argomento tutto qua so che l'anno scorso Matteo avevamo fatto anche qualcosa assieme su questi argomenti qua di comunicare anche al vostro cliente la salubrità il controllo dell'arce avete fatto anche un posto se non mi ricordo male su LinkedIn che i vostri ambienti erano sanificati controllati eccetera rientra anche in questa riorganizzazione degli spazi questa riprogettazione che state facendo questo concetto oppure lo state anche voi come ha detto aspetta un attimo vediamo adesso che non sia solo una moda allora è una lama a doppio taglio abbiamo dibattuto lungamente sul modo in cui vogliamo comunicare al consumatore ovvio che durante la pandemia abbiamo lavorato in primis abbiamo lavorato con uno dei virologhi più diciamo nell'ambito del dibattito nazionale con il dottor Crisanti abbiamo lavorato su una strategia e su un protocollo che poi è diventato anche un protocollo certificato e un protocollo che ha portato a grande giovamento soprattutto nella nostra organizzazione e all'interno degli uffici ma poi anche nei negozi nell'ambito della comunicazione al consumatore abbiamo voluto dare la tranquillità e la sicurezza che gli spazi fossero garantiti soprattutto nella logica della sanificazione del prodotto del distanziamento interpersonale ma da un punto di vista della qualità dell'aria difficilmente certificabile soprattutto in un network che ha negozi con sistemi diversi non ci siamo sentiti in una posizione di voler comunicare qualcosa del quale non potevamo essere certi quindi abbiamo ovviamente lavorato su una strategia di assicurarci che i sistemi fossero compliant rispetto a quella che era il protocollo previsto con l'università di Padova in questo caso con il dottor Crisanti ma non abbiamo comunicato né tantomeno iniziato a monitorare con strumenti la qualità dell'aria Feltrin tu lavori anche all'estero centri commerciali situazioni come vivi o come hai vissuto anche l'approccio nel ripensare i progetti tra il retail in Italia rispetto al retail all'estero su questo argomento li hai trovati tutti uguali i committenti le situazioni o ti hanno stimolato o hai visto proprio delle segmentazioni perché gli americani hanno permesso tutto gli svedesi i giravi e gli unici stranieri sono quelli con le mascherine ci abbiamo trovato anche situazioni un po' nobile parlo anche per motivi personali sono legato alla Norvegia ho avuto la fortuna di rientrare in Norvegia quest'estate e ho avuto la chiara percezione che si guardavano un po' come UFO cioè lì non è caduto quello che abbiamo vissuto noi soprattutto nell'Europa Mediterranea in Inghilterra si sono barricati hanno chiuso i confini hanno continuato a vivere della loro economia e noi nei rapporti con la Norvegia ci siamo ritrovati a dover spiegare delle cose che per un essere umano e quindi come progettazione l'anno è cambiato non si sono preoccupati non hai zero zero io ero imbarazzato quest'estate a dover girare perché poi per deformazione professionale giro centri commerciali in ogni luogo dove vado vado a guardare come vengono realizzati che caratteristiche hanno così via per cui ripeto rientrato quest'estate mi sono sentito a disagio nell'essere praticamente l'unico a portare la mascherina e ad avere un sistema di protezione non entriamo in questo argomento perché mi sa che dopo no 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 certo è per dirti è per dirti è per dirti dopo di che passo a un altro discorso per dirti che per assurdo in in pieno lockdown un committente estero ci dà il semaforo verde per partire con il restyling di un centro commerciale a Barcellona ok che ti dico la verità secondo lo standard italiano poteva essere un centro commerciale che poteva rimanere lì ancora 5-6 anni le richieste erano quelle di incrementare quella che era la percezione dello spazio di migliorarlo di attualizzarlo di modificare quello che era l'area di food introducendo un sistema a chiamiamolo a street food quindi con delle piazze dove la ristorazione è una ristorazione molto veloce grazie a Dio noi venevamo anche da un'esperienza che avevamo in corso qui su Bicocca dove abbiamo realizzato otto ristoranti al piano terra andandoli a sostituire a praticamente otto negozi di vicinato che erano chiusi e creando una piazza molto più vicina probabilmente ai giovani ok quindi ad esempio anche l'esperienza adesso con il covid stanno vedendo molti centri commerciali stanno aprendo anche il food court anche fuori esattamente per poter se ricapita ancora una pandemia speriamo di no certamente poter soffrire anche degli spazi all'aperto certamente che il centro commerciale non aveva mai tenuto conto nella progettazione era tutto dentro e tutto deve stare lì davanti passando ai negozi eccetera invece oggi si sta cercando si sta pensando a un dentro fuori sinergico sicuramente molto più sinergico rispetto a pre-covid e quindi anche la rivisitazione delle piazze esterne le aree d'ingresso l'introduzione anche all'esterno di qualcosa di attività ok e di quindi nuovo lavoro dai e quindi nuovo lavoro bene bene siamo già più sereni Claudio un altro giro anche te di domanda semplicissima quindi l'hai già detto prima sei stato provocato quindi nei tuoi nuovi progetti stai mettendo tutti i sistemi di marketing golf attivo stai di sostenibilità avanti e dietro o stai continuando a fare i tuoi concept come hai sempre fatto o allora il la progettazione che facciamo noi in realtà considera tutti questi elementi come informazioni di partenza però come informazioni esterne al nostro lavoro nel senso che questo ci viene imposto dal brand o dall'azienda nel senso che è molto difficile ci abbiamo provato in qualche caso convincere un'azienda a fare qualcosa che magari non ha avuto in testa fino a quel momento quindi parlare di sostenibilità sostenibilità per un'azienda come la Cavalli o come addirittura Filipe Line per la quale abbiamo fatto 270 negozi in giro per il mondo non ci sentono quindi noi riceviamo dei brief che ci chiedono di dare delle risposte di un certo tipo alle necessità dell'azienda allora cosa è successo a seguito della pandemia niente di particolare nel senso che nei negozi nello sviluppo di negozi ci è stato chiesto di spendere di meno ma francamente questo ce lo chiedevano anche prima quindi non è cambiato molto la richiesta da parte dell'azienda poi tutti gli aspetti tecnologici per noi sono relativamente poco rilevanti perché in realtà noi siamo interessati solo alla ricaduta che questi aspetti tecnologici possono avere sugli aspetti architettonici vale a dire se l'impianto di climatizzazione per dover far spazio a nuove tecnologie si ingrandisce questo ovviamente ha una ricaduta pesante sull'aspetto architettonico se come nel caso della profumazione si tratta di qualcosa che sta a monte vale a dire dove inizia l'impianto non modifica la dimensione delle canalizzazioni per noi non è da un punto di vista prettamente progettuale non è rilevante nel senso io sono personalmente molto sensibili agli aspetti green ecologici sostenibilità eccetera eccetera ma nel retail high end se ci sarà un nuovo negozio di Armani e questo lo vedremo prossimamente lo andrò a vedere per capire come e cosa hanno fatto per ora è un progetto degli outlet siccome riciclano o comunque sono le seconde linee o quelle che tornano dai vari negozi penso che l'abbiano messo lì come marketing per far vedere che recuperano poi vediamo cosa succede no ma allora un altro aspetto ci stavo pensando mentre ascoltavo le altre risposte è il fatto di creare degli spazi che siano più flessibili nel senso che la la dinamica del marketing richiede dei cambiamenti nella disposizione del merchandising e questo è una variazione che succede come risposta delle aziende alle necessità che vengono rilevate da parte del pubblico quindi creare delle strutture all'interno dei negozi che siano particolarmente rigidi non viene più visto in modo favorevole da parte delle aziende che chiedono che si possa fare una modifica in tempi brevi senza che il negozio debba fermare la sua attività e soprattutto con dei costi sostenibili Franco ultimo giro anche a te all'inizio noi abbiamo detto pensare progettare costruire gestire quindi un filo logico di tutto questo abbiamo capito che le macchine consumano e non possono fare sostenibilità ti hanno riempito di plexi da questo punto di vista quindi tu hai continuato a fare quello che facevi prima attendendo senza grandi novità poi i politici adesso hanno messo dentro i monopattini possono andare in concessionaria i meccanici sta uscendo un po' di cose sei anche influenzato da quello o no in realtà comunque il trend sempre dei marchi premium e luxury è quello di ridurre sempre più gli spazi espositivi per le automobili ma non per ridurre la dimensione diciamo delle strutture di vendita ma per dedicare più spazio ad attività e diciamo intrattenimento e luoghi dove si possa fare community è chiaro che con certi marchi puoi fare community con altri no perché insomma certi trascinano chiaramente delle emozioni delle cose un senso di associazione con altri no però in ogni caso qualcuno ipotizza anche che la classica concessionaria non sarà più l'ambiente dove si andranno a comprare le auto l'acquisto verrà fatto online però resteranno faremo ristorante dentro di costa con casomai anche un negozio di ottica faremo diventare gli spazi omnicanali nel momento in cui si va a ritirare perché l'auto fisicamente la vai a ritirare se te la possono consegnare a casa ma diciamo tendenzialmente te la vai a ritirare in quel momento entri in un ambiente che è tutto dedicato all'esperienza del cliente con con altre attività altre cose tutto questo chiaramente spinge molto sul multimediale perché se non hai il prodotto fisico devi comunque garantire insomma la possibilità di avere l'informazione sul prodotto di configurarlo e tutto che mi spinge molto sul multimediale stiamo sperimentando delle virtual reality room che sono degli ambienti dove tu vedi una macchina che non c'è che realmente facciamo i negozi come facciamo se mi fai ste robe no beh ma sono interessanti queste esperienze poi dobbiamo capire anche come reagisce la gente infatti qualche marchio ha cercato di dire mettiti gli occhialini in mezzo al salone vedi qualcosa ma la gente non gli va neanche tanto di passare da stupido a girare così quindi abbiamo pensato di fare delle room proprio chiuse completamente chiuse con della dimensione dove ci può stare virtualmente un'auto e dove il cliente che fa questi gesti un po' un po' in consulti che apparentemente in consulti non viene visto dagli altri sono esperienze che sta facendo devo dire che è un mondo che anche con l'elettrico sta cambiando tanto cambieranno anche le normative di riferimento a breve perché la block example regulation del 2002 verrà aggiornata nel 2024 e quindi non sappiamo ancora cosa si sarà dentro insomma è comunque un mondo in grande fermento e quando ci sono cambiamenti ci sono opportunità giusto? beh vediamo di vediamo di cogliere mi devo scusare ma ho il treno che forse lo sto già perdendo no no vai subito Franco buonasera ciao Franco grazie di tutti direi che Lorenzo chiudiamo giusto un pensiero io direi visto che ti ho coinvolto anche nell'organizzare o comunque nel aiutarmi su questo aspetto li possiamo invitare tutti il prossimo anno così ci darà gli aggiornamenti della tua attività anche da questo punto di vista quindi essendo coinvolto in nuovi cambiamenti si sentivano prima anche quelli che sono la nuova esperienza con i servizi che fate quindi ci diamo appuntamento al prossimo anno? ci diamo appuntamento al prossimo anno il tema della sostenibilità è e sarà sempre più interessante da approfondire è affascinante ed è vero anche quello che ha detto prima Paolo Panciroli di Max Mara è vero che tantissimi progetti di sostenibilità sono stati accelerati perché c'erano dei vantaggi anche fiscali anche in Italia di recente quindi è stato un bel test probante anche noi abbiamo fatto profumi uno sostenibile con delle biotecnologie per quanto riguarda l'esperienza all'interno del punto vendita ovviamente io credo che non si possa prescindere dall'olfatto perché è un senso innato è un senso che conosciamo poco possiamo per assurdo chiudere gli occhi non vedere un format tapparci le orecchie non sentire la musica ma finché siamo vivi respiriamo e con l'olfatto noi possiamo comunicare vivere delle sensazioni avere dei ricordi creare loyalty e quindi diventa veramente un aspetto da considerare bene grazie Lorenzo grazie ai relatori grazie della pazienza credo che di là ci aspettino comunque con un piccolo aperitivo che ci congediamo e ci salutiamo e sicuramente nei prossimi giorni riceverete un po' di informazioni rispetto al convegno e contenuti qualcuno me l'ha chiesto e individueremo una data che sia un po' lontano dalle ferie di agosto e sperando soprattutto che questa pandemia ci lasci un po' fare le nostre attività professionali arrivederci a tutti grazie della vostra pazienza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti